Siamo entrati nel 2024, tante le opere in questo momento che sono in fase di costruzione per quanto riguarda la città di Pesaro, tante anche però le opere che in questi primi mesi vedranno la luce. Sì, il 2024 è l'anno della capitale italiana della cultura ed è anche l'anno che segna la continuità rispetto a una trasformazione, a una città che continua a cambiare. Investimenti che vedranno già nel mese di gennaio e febbraio alcune inaugurazioni importanti, quelle legate alla CTE, la città delle tecnologie emergenti, che vedrà realizzare questa sua sede nel Largo Mamiani, quindi un luogo dedicato all'innovazione, alle start-up, anche alla possibilità di far dialogare realtà pubbliche e private con la logica dell'innovazione. Avremo in Piazza del Popolo questa grande sfera tecnologica che sarà un po' il simbolo anche dell'anno della capitale italiana della cultura. I primi due mesi dell'anno saranno dedicati alla conclusione degli interventi sul palazzetto dello sport e avremo anche sugli impianti sportivi e andremo a concludere l'intervento di riqualificazione del campo da calcio di Villa San Martino. Partiranno altri cantieri importanti, quelli di regenerazione urbana, degli edifici del centro storico, in particolare partirà il Palazzo San Domenico, che è il palazzo per intenderci che sta dietro il Palazzo delle Poste e su Via Giordano Bruno. Poi abbiamo l'intervento di 5 milioni e mezzo di riqualificazione della scuola Manzoni, quindi anche le scuole assolutamente prioritarie nell'asset degli interventi che andremo a realizzare anche nel 2024 e nelle nuovità future. E poi abbiamo, come dicevo, altri interventi che si concluderanno nel mese di in particolare marzo e aprile, importanti. Uno è il cavalcaferrovie. Il cavalcaferrovie è un intervento con cui andremo a mettere in sicurezza, abbiamo messo in sicurezza queste barriere laterali, andremo a riprendere i giunti. È un intervento con un'illuminazione nuova e verrà anche asfaltato, quindi un intervento che ci consentirà di riportare le quattro corsie sul cavalcaferrovie. Non solo il cavalcaferrovie, entro la primavera andremo a concludere il sottopasso dei cappuccini, che anche questo è assolutamente un'infrastruttura molto importante perché ci consente di riqualificare una delle aree forse la più degradata che avevamo in città. Andremo a potenziare l'illuminazione, prevedere l'installazione anche di videocamere di sorveglianza, andare a realizzare una vera e propria rigenerazione di quel punto importante della città. Sempre entro la primavera andremo a concludere altri interventi importanti come il ponte ciclopedonale che collega il quartiere a nord della città con il centro storico e la stazione del treno. Un ponte completamente in acciaio che è attualmente in fase di posa in opera, quindi c'è attualmente il varo cosiddetto del ponte sul foglia che appunto andrà a collegare il parco 25 aprile con i quartieri a nord della città, quindi con via Milano e la parte di via Fossombrone, andando a raccordarsi con le ciclabili esistenti e a consentire in pochi minuti di bicicletta dai quartieri di Tombaccia di poter raggiungere la stazione del treno e la città di Pesaro. La primavera sarà anche la stagione degli interventi sugli impianti sportivi, in particolare andremo a concludere il completamento della cittadella dello sport di Villa Fastigi, quindi questo project realizzato da Vis Mati con il comune di Pesaro per andare a recuperare dei campi da calcio, dei campi da calcetto, impianti da paddle, insomma un impianto sportivo a tutti gli effetti con anche un piccolo bistro che possa anche far crescere nuovi talenti del calcio pesarese. Non solo calcio, entro il mese di aprile, aprile e maggio, andremo a concludere anche un'importante riqualificazione dello stadio da baseball e poi anche gli interventi sulle palestre. Il più importante è quello della scuola media Brancati, la palestra della scuola Brancati, che è anche qua realizzata con canoni di grande attenzione rispetto al tema ambientale, quindi una scuola dal punto di vista di efficientamento energetico e della sicurezza al top e che sarà anche qua un elemento omologato a coni, un elemento di valore aggiunto sia per la scuola che per gli impianti sportivi della città.